ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua ancora una volta con questa bellissima rubrica che tanto amate che tanto amiamo e che mi dà anche lo spunto per capire i vostri ologi e la vostra personalità quale diciamo percorso intendete intraprendere questo simpatico obbligo e collezionare orologi perché poi alla fine si tratta di accumulare lì orologi tenerli lì non indossarli arrivare a 30 a 40 cosa ce ne frega l'importante è possederli questo è il ragionamento no corretto sbagliato tanto ci si arriva a quel punto lì come partecipare lo sapete video in orizzontale concisi brevi spigliati 7 minuti al massimo e poi inviate qua all'indirizzo email che trovate in sovraimpressione l'orologio di oggi è questo bellissimo omega si master professional 42 mm calibro 8800 in house orologio diver a tutti gli effetti i suoi bei 300 metri la sua bella ghiera girevole la sua bella valvolina per leglio che è sempre utile no e vabbè c'è però c'è e ci fa piacere sono quelle feature che non servono a una beata e però che noi vogliamo perché ci danno no quel non plus ultra va bene dai passiamo i video primo video vai buonasera davide sono saverio frequento il tuo gruppo telegram da ormai 4 anni ah amico saverio mi conosci bene credo che mi conoscono anche gli amici a casa bravo saverio volevo presentarvi qualche orologio della mia collezione per non rungarne troppo ne ho scelti alcuni partiamo da questo cartier tank vermeil cassa in argento quadrante numeri romani blu tutto in argento con fibbietta originale cinturino ovviamente abbinato abbinato passiamo poi a questo brightling questo qua è un brightling callisto credo metà anni 90 quadrante bianco acciaio oro anche lui con fibbietta originale calibro carica manuale questo qua mi è stato regalato per i miei 15 anni ha una storia divertente dietro poi abbiamo una coppia da un solo uno che per esempio prima lui che è stato il primo che ho trovato cercando a casa dei miei nonni in un cassetto trovo lui orologio per me bellissimo con delle bellissime linee cassa placcata e l'unico problema è che ha un guasto credo alla ruta centrale che non ho mai sistemato perché non lo usavo mai quindi non ne ho mai sentito il bisogno continuando le ricerche a casa dei miei nonni trovo lui un orologio completamente identico tranne per la corona questa corona qui è quella originale ma è partito il simbolo mega sono due orologi completamente identici ovviamente tranne per la corona entrambi placcati due bellissimi orologi molto divertente il fatto che ne ho trovati due suppongo che il mio bisnonno perché sono del mio bisnonno per non far riparare questo qua ne ha comprato direttamente un altro e ha fatto la cosa migliore ha fatto bene anch'io quando mi si scarica il cellulare non sto a ricaricarlo ne compro un altro funziona così noi vip facciamo così mamma mia allora c'è da dire che per ora abbiamo visto tutti i vintage in oro di famiglia perché insomma vuol dire che c'hai anche una certa famiglia alle spalle che aveva degli orologi in oro che a quel tempo non erano da tutti poi nel cassetto ne trovi uno e poi c'è quell'altro uguale identico perché non c'aveva voglia di ripararlo giustamente bravo bravo saverio bravo saverio ora puoi tornare anche nella capanna come si suol dire poi abbiamo questo buren rival che è uno skin diver automatico età 2774 se non sbaglio ovviamente funzionante abbiamo un po' di carica dovrebbe partire ecco qui 200 metri cassa mrp ghiera alluminio indici ovviamente altrizio belli virati che sembrano un sorbetto al mango questo è interessante ci ho montato su un nato in realtà ho un bracciale chicchi di riso per lui ma non si adatta bene mi dà molto fastidio il fondello mi è stato detto che è stato serigrafato ma io sinceramente ho i miei dubbi credo che buren abbia comprato la cassa e poi dopo l'abbia serigrafato in seguito poi abbiamo l'orologio di mio nonno questo splendido longines 30l cassa in oro quadrante bianco quindi questo è l'orologio di mio nonno che ho trovato a casa di mia nonna è un orologio credo cassa nazionale perché non ne ho mai visti con la cassa in oro però io lo trovo bellissimo veramente non lo so per vedere se la cassa è nazionale devi aprire il fondello e vedere se all'interno c'è la scritta longines con tutti i cosini dei carati io ho un longines da 32 mm in oro tutto in oro con cassa nazionale all'interno non c'è il simbolo longines perché spieghiamo per gli amici che non lo sanno e funzionava così per un certo periodo l'importazione dell'oro in italia prevedeva dei dazi aggiuntivi che andavano poi a gravare su un orologio sul prezzo dell'orologio che diventava insostenibile alla vendita al dettaglio quindi longines cosa faceva? faceva costruire le casse all'importatore binda gli spediva tutto il resto del materiale che poi assemblavano in italia funzionava così era una cosa normale quindi non è che un orologio longines che a cassa nazionale non è originale è originale è originale perché la procedura a quel tempo era così è bello elegante 34 mm tutto in oro con una compresa carica manuale ovviamente 30 L e l'ho recuperato con la spirale completamente storta infatti il mio orologiaio con tanta pazienza l'ha raddrizzata con le pinzette siamo poi a un altro orologio ecco questo è un esempio nel quale uno dice interviene l'orologiaio manualmente per raddrizzare la spirale del bilanciere ok su questi orologi qua così di vintage ha anche senso metterci le mani no? si può fare ad esempio se un orologio moderno con spirale in silicio la spirale in silicio non si può addrizzare cioè non ci devi mettere le mani non la devi toccare perché si rompe è rigido ma stiamo parlando di orologi contemporanei nei quali conviene cambiare il sistema bilanciere spirale perché funziona così i casi nei quali si va a intervenire sulla spirale sono rari anche in questo caso qua vabbè è riuscito a ripararla buono così ma altrimenti nessuno si sogna di sostituire la spirale prendendo la aftermarket nuova usata cannibalizzandola e metterla dentro il bilanciere originale perché dopo va equilibrato tutto il sistema bilanciere spirale deve essere equilibrato quindi quando una spirale non è più riparabile è più conveniente comprare bilanciere e spirale insieme e metterlo lì dentro così il sistema è già bilanciato di per sé dopo basta che fai qualche regolazione fine punto è comunque molto interessante come stavo dicendo questo qui è un universal geniv portaire date cassa placcata movimento con micro roture come possiamo leggere qui vetro originale linea spettacolare come possiamo vedere ultima chicca ma non per importanza anzi forse questo è effettivamente è il più importante della collezione che mi ricorda dei bei tempi è il Vostok scimmia che ho fatto grazie a uno sticker che girava nella tua chat durante la quarantena e io da 14 anni 15 anni annoiato ho smontato il mio Vostok anfibia con un quadrante con un piedino rotto ho stampato lo sticker e l'ho messo come quadrante ed è molto divertente non lo uso più perché ormai ha perso tutta la sua impermeabilità però è bello averlo è stato un piacere parlare della mia collezione arrivederci dimmi ovviamente cosa ne pensi degli orologi completamente distrutto porco dovuto a Terrell Bridling ma come? non tocchiamo niente ha buttato a Terrell Bridling d'altronde Saverio è un personaggio della chat Telegram dove ci ritroviamo per parlare di orologi è un personaggio un po' così un po' da capanna dello zio Tom perché lì ha fatto ha fatto lo sticker di un quadrante e si vede che è tutto ritagliato male lui è abile a ritagliare male le cose con tutti gli spazi vuoti intorno poi ha tutti i orologi d'oro e tutti vintage e tutti trovati nel cassetto ma come mai? è il babbo, è il nonno, è il bisnonno, è la nonna tu ti compri mai niente eh caro Saverio va bene facci vedere gli orologi di famiglia l'eredità il lascito di tutti quelli che c'è intorno che c'hanno i bagarons come si suol dire e ti lasciano gli orologini a te diciottenne allo sbaraglio bravo ora puoi tornare nella capanna che questa è una cosa tra me e lui prossimo ciao Davide ciao ho fatto già col botto che presento lui il vero big guy della Longin del 1967 e bracciale non è il suo perché data la la rarità del dell'orologio usciva braccialato o con il cinturino e il suo cinturino era logoro ed è stato sostituito con questo bracciale che purtroppo non è perfettamente allineato con le anse è completamente tutto originale il quadrante è stato ristampato all'epoca purtroppo ma data la rarità del del pezzo in questione diciamo che è un non nulla perfettamente marciante revisionato nel 2001 se non sbaglio dopo apri il fondello e te lo farò vedere anche dentro che monta il ch30 perfettamente funzionante parte cronografica ancora una logata ghiera perfettamente leggibile non da sottovalutare dato che se ne trovano tante in vendita con le ghiere completamente a brase unico unica pecca il dot il dot essendo del 67 non si può avere tutto perfetto ed è un 41 mm sono scordato di dirtelo ora ti farò vedere il movimento questo il suo movimento magnifico con la ruota colonne spero che si veda bene si si vede lo faccio vedere anche al polso è un polso da 16 e comunque un 41 mm direi che non è per niente sproporzionato è veramente splendido è una referenza che è introvabile spero che piaccia a tutti un saluto grazie ancora e spero che lo pubblicherai va bene lo pubblichiamo perché è un simpatico esempio di orologio vintage di quelli che piacciono alla maggior parte di noi appassionati ora ti hai detto del 67 il dot bla 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 il 67 non è poi nemmeno così tantissimo il discorso è questo che su orologi dress watch come possono essere i lungini che ho in collezione io o altre tipologie di orologi essere del 67 non comporta una usura come questo qua perché? perché erano orologi più eleganti da indossare in determinate situazioni magari la domenica l'orologio della domenica se è d'oro poi ancora meglio in certe occasioni insomma ci si faceva un pochino più attenzione anche se erano strumenti da utilizzare tutti i giorni però erano leggermente più questo qua essendo un diver un orologio sportivo nel 67 veniva utilizzato per il suo scopo non ci si non ci si spaventavano certo questi giovani ragazzi e quindi ha subito più l'usura del tempo che non un pari un orologio coevo però in versione dress watch comunque complimenti per per l'orologio che ci è piaciuto tanto prossimo video ciao Davide sono Luca da Bologna Luca seguo sempre il tuo canale sono appassionato di orologi da 4-5 anni e ti faccio vedere la mia piccola collezione e spero si allarghi sempre di più per la saga delle tovaglie oggi abbiamo quella col pizzo quella classica fatta ad uncinetto quella della nonna dai ci siamo tutto bianco fa anche un po' il suo bel perché il primo che ti faccio vedere è uno splendido ciofei carlert ma no è un orologio che ho usato veramente poco devo essere sincero è un pezzo di plastica che non vale assolutamente il prezzo che chiede swatch bello che tutti tutti a denigrare il proprio moonswatch tanto l'avete comprato avete fatto parte del sistema dell'hype delle code al negozio praticamente anche se l'hai comprato in un secondo tempo il prezzo di listino è lo stesso hai contribuito e poi dopo quando lo presenti dice un pezzo di plastica non vale quello che costa ma allora cosa contribuite io lo sapevo già da prima e me ne sono stato fuori a guardarlo e a prenderlo in giro contento te contenti tutti l'ho preso solamente per averne uno in collezione ma forse se tornassi indietro lo lascerai dov'è ebbè ebbè il secondo prologio cos'è? è stato regalato da mia moglie 5 o 6 anni fa devo essere sincero l'ho usato veramente poco è chiaramente un quartone mamma mia ha un bel quadrante però ovviamente è un quadrante già visto è un Michael Gors brutto adesso passiamo agli automatici vai allora questo è un 6.5 sports veramente un gran bel orologio sono molto soddisfatto di questo orologio con questo bel cinturino in cordura ho nato così no devo essere sincero sono molto soddisfatto perché è un orologio per tutti i giorni poi diciamo che questo colore questo nero con gli indicatori azzurri è veramente veramente bello bello passiamo ad un altro automatico sempre un Seiko questo è l'ultimo arrivato Seiko GMT con questa colorazione arancione è un quadrante meraviglioso con dei riflessi bellissimi questo cinturino giubilè molto contento anche di questo acquisto devo essere sincero ho fatto anche fatica a trovarlo ora da notare come stia cambiando data è proprio la metà lo vedete il datario alle 11.05 sta già cambiando il datario ce ne vuole col macinino cambiare sono fatti così calibri fatti così e anche questo come orologio estivo da tutti i giorni è veramente valido o da tutti i giorni ecco si possono vedere si può vedere il quadrante che ben riflessi che fa ora passiamo al mio regalo che mi sono fatto quando mi sono sposato nel 2019 bravo un submariner top oro acciaio quadrante blu un'etta in ceramica devo dire che questo era proprio l'orologio che desideravo sono riuscito a prenderlo a trovarlo nuovo e l'ho preso appena l'ho trovato veramente meraviglioso non c'è da dirgli nulla so che tu non sei un patito dell'oro acciaio però questo è veramente no io sono patito dell'oro acciaio mi piace l'oro acciaio ma giustamente infatti adesso stavo pensando come il bracciale oyster oro acciaio mi piaccia un po' meno lucido così per esempio il globe master l'omega globe master in acciaio è oro che è quell'oro opaco quello lì mi piace un casino ad esempio c'era nessuno non l'ho mai visto non l'ho mai visto in giro nei negozi c'era nessuno quindi se un giorno mai volessi fare un colpo di testa devo prendere la scatola chiusa o andare dove c'erano disponibile però mi piacciono le acciaio oro anzi molto però magari un submariner no poi specie l'oyster il bracciale oyster lucido l'acciaio oro non mi convince al 100% poi lo dico ora poi magari fra 5 anni mi vedi con tutti i submariner l'acciaio sono gli orologi migliori del mondo si sa mai però un quadrante che è meraviglioso passiamo al secondo pezzo vai diciamo più importante e cos'è rolex megaus questo l'ho acquistato nel 2021 sempre nuovo veramente veramente bello devo essere sincero l'ho acquistato per il vetro verde perché per me è veramente una particolarità che non ha nessun altro orologio nessun altro rolex quindi l'acquisto è stato fatto proprio per quello bravo davide grazie mille è finito grazie a te spero di perdere il mio video sul tuo canale grazie ancora grazie a te per il brio che ci hai messo nel presentare gli orologi perché fra un pochino mi addormentavo comunque via orologi tutti belli dagli entry level fino ad arrivare ai top level i due rolexoni niente da dire bravo continua così promosso non ho mai fatto nemmeno la mezza domanda prossimo video ciao davide mi chiamo rocco ho 35 anni e volevo mostrarti la mia piccola collezione di orologi fatta nel tempo che sto cercando di incrementare partirei dagli orologi vintage ho questi comandischi questo è il primo ne ho tre ereditati da mio padre per una vecchia collezione questo molto carino sfondo nero lancetta dei secondi indice dei secondi rossa quindi molto particolare credo che il modello che li contraddistingue tutto quanto sia che abbia questa stella rossa sullo sfondo un orologio molto semplice questa ghiera rossa rossa e nera ovviamente un orologio a carica manuale con complicazione data un orologio molto semplice devo dire ho capito credo che siano anche indistruttibili poi questo è il secondo questo qui ha uno sfondo un po' più particolare questo verde sempre molto simile molto simile all'altro sempre con la complicazione data lunetta abbastanza semplice da estrarre devo dire un orologio sempre vintage che a volte è indosso a volte un altro orologio vintage sembra sta serie è questo questo credo sia un po' più particolare quella ghiera placata in oro anzi non credo neanche sia placata in oro credo sia dorata però un orologio non molto evidenzioso che a volte è indosso bravo altri gli ultimi due orologi vintage è sempre questo poljot poljot questo qui non è d'oro ma è placato d'oro non so molto di questo orologio credo che sia stato fatto per un'edizione del 1992 non so se le olimpiadi mi pare e porta come numero inciso sulla cassa questo seriale credo che sia il numero di pezzi che feceranno per questo orologio ma io non so come per le olimpiadi nel 92 le olimpiadi c'è la bandiera russa la bandiera italiana sarà per una qualche occasione di collaborazione gemellaggio vuoi che vuoi ne ho già sentiti diversi di questi tipi qua le olimpiadi con la bandiera vabbè se lo dici te un altro l'ultimo orologio vintage è questo zenith anche questo faceva parte della collezione mio padre va un po revisionato zenith a carica manuale molto molto sottile credo che siano i tank che fecero una volta negli anni 60 70 credo molto molto simpatico simpatico poi il primo orologio che ho comprato quando ho cominciato anche a lavorare quindi mettendo a parte qualche soldo è stato questo di Sot al quarzo so che a te non ti piacciono molto i numeri romani sul quadrante ma è un orologio molto elegante sottile da mettere sotto la camicia quindi lo acquistai così perché quando andavo al lavoro comunque era un orologio che dava un tocco un po classico classico quindi l'ho acquistato per questo bravo un altro orologio al quarzo ancora acquistato con un bonus aziendale è stato questo Citizen Eco Drive mi piaceva il fatto che avesse lo sfondo in questo tipo sembra un orologio al quarzo è un cronografo non molto un po' un po' grande devo dire credo che sia come misura un 40 mm non lo utilizzo molto però vorrevo un Citizen nella mia collezione forse è stato un acquisto un po' azzardato però è comunque un po' l'orologio passiamo agli automatici Seiko Seiko 5 acquistato su Amazon molto molto bello sottile con il fondello a vista in cui si vede tutto il meccanismo Seiko molto molto leggero che sia un 31 mm un orologio credo che sia indistruttibile che uso molto molto spesso per la sua praticità e la sua e la sua versatilità poi T-Sot Visele con meccanismo Powermatic 80 questo è stato un regalo un orologio molto classico anche questo c'è il meccanismo a vista vetro zaffiro molto 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 bello molto 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 gigante devo dire un orologio che indosso in situazioni particolari molto molto elegante molto molto ultimo acquisto invece seguendo appunto il tuo canale è stato questo Hamilton Hamilton ho il polso piccolo però di questa misura comunque mi sta molto bene utilizzo diciamo tutti i giorni anche adesso che è estate devo dire che lo metto lo metto spesso è davvero un bel un bell'orologio ti ringrazio grazie a te e volevo sapere cosa ne pensassi della mia collezione grazie e a presto love 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 una collezione diciamo che è nella media nella media diciamo una collezione senza colpi di testa secondo me non c'è nemmeno un orologio che dici che sprizza niente proprio vabbè ci sono quell'Hamilton il Tissou cioè questi orologi qua così belli per l'amore del cielo ma poi tu ti comandischi vabbè diciamo che te puoi tornare a settembre che praticamente ci siamo però vabbè settembre dell'anno prossimo mandamelo l'anno prossimo ciao Davide sono Alessandro alessandro da Londra che ormai da più di 10 anni bravo e vabbè ti volevo fare i complimenti per il canale grazie anche grazie a te insomma mi stai facendo appassionare tantissimo e insomma mi hai fatto entrare in questo mondo e vai bellissimo bellissimo e volevo cominciare velocemente con dei qualsi per professare degli automatici e volevo iniziare con questo cronostar della Sektor e diciamo che è stato il mio primo orologio mio padre me lo regalò e sì diciamo che sono entrato nel mondo delle orologie anche grazie a questo orologio ho capito insomma lo sto apprezzando piano piano tutti gli orologi poi ho questo tisso che è il mio primo orologio comprato da me crono XL sempre quarzo e c'è un po' rovinato dietro anche perché lavorando nella registrazione da ormai da anni e qualche botta l'ha presa però insomma rimane sempre un gran pezzo è sempre un tisso sì va bene sempre un tisso però è brutto poi abbiamo un Seiko cronografo mamma mia che brutto con silicone questo anche mi pare sia 44 45 mm non ricordo scusa se non riesco a usare termini tecnici però sono ancora insomma un amateur no? amatoriale ancora però sto imparando sto imparando eccolo poi ho questo invicta anche questo molto carino insomma con fondale fondale marino insomma come puoi vedere c'è questo squaletto qui e questo anche molto carino è il mio primo diver mi piace mi piace mettilo via poi devo farti un discorso sui quarzi vabbè una domandina insomma poi ho il Timex Expedition ah ce l'ho anche io Indiglo yes e anche questo vabbè il classico field watch però il Timex anche tanta roba con la lancetta dei secondi in giallo sì molto carino ce l'ho anche io uguale identico ce l'ho due tre poi gli oggetti un po' più seri abbiamo ecco il Citizen Pro Master e io ho cambiato anche il cinturino ho messo questo di silicone con questa linea rossa che insomma riprende questa parte della corona rossa ah corona questo bella lo metto ogni giorno ormai mi sono innamorato e poi ho notato che anche tu lo metti quindi top top poi l'ultimo acquistato è l'Orient Mako 2 bellino io ho cambiato anche qui il cinturino io ho messo un giubilè come vedi e anche devo dire la verità ho notato che il cinturino stesso dell'Orient non mi sembri proprio un bracciaio di qualità almeno l'ho sentito però insomma penso sta cosa un po' così non so se è normale come non so se è normale guardi qualsiasi recensione di questo orologio e tutti ti diranno che il bracciale non è di qualità elevata come quello magari dei secco 5 eccetera eccetera non è che hai scoperto l'acqua calda che devi essere anche un attimino indeciso sul dirlo mi sbilancio e l'abbiamo detto tutti non so che ne pensi tu però insomma grandissimo pezzo anche questo ma certo e poi non poteva mancare la chauffeca alert da 3 2 1 tin il pagani design mamma mia e vabbè ovviamente homage al rolex sfizioso per il meme per il meme questa è la mia collezione ve l'ho fatta l'ultima domanda ha senso secondo te perché volevo vendermi il tisso per fare cassa e compriarmi più automatici perché ovviamente più passa il tempo più mi sto accorgendo che preferisco gli automatici e i quarsi quindi diciamo che questi qui a parte il timex che lo metto al lavoro non li metto ormai più quindi voglio dire se fosse una cosa normale insomma ovviamente capire che i quarsi nonostante siano sempre bei i orologi però non soddisfano quanto gli automatici se è normale che tendo a scegliere solo automatici anziché quarsi e se ha senso anche venderli o non lo so eh lo so per la tua opinione scusa se non mi sono espresso bene no insomma spero che insomma ti piaccia insomma eh niente complimenti ancora per il canale si spacca di più e tra due o tre anni dai che arriviamo a un milione di iscritti ciao 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 come se fare le domande a te non le sa fare nessuno non si capita una beata minchia di quello che volevi chiedere provo ad interpretare un attimino no vabbè allora i gusti cambiano no ora a te stai preferendo gli automatici e non ti interessano più gli orologi a quarzo ma è semplicemente perché stai cambiando i gusti non è che c'è una regola scritta no avresti potuto anche decidere che ti piacciono gli orologi piccoli e vendere quelli grandi oppure che ti piacciono gli orologi grandi e quindi vendere quelli piccoli semplicemente ad un certo momento ma qua come nella vita ci si rende conto che si sta cambiando che ci piace qualcosa di differente e che quello che ci piaceva prima non ci piace più o ci piace di meno no è normalissimo quindi la colpa non è nemmeno degli orologi a quarzo perché hanno anche il loro senso di esistere quindi devi seguire il flusso se te senti che ti piace più di più una cosa vai su quella cosa e abbandona quell'altra ma qualsiasi cosa sia non perché sono al quarzo e quegli altri sono meccanici detto questo a me non piacciono gli orologi al quarzo in che senso non piacciono gli orologi al quarzo mi piacciono come quel timex lì mi piace ce l'ho anch'io se lo devo comprare con 40 euro 35 euro perché deve svolgere una funzione particolare cioè proprio da indossarlo in determinate situazioni per le quali non me ne frega niente di avere l'orologio e se ce l'ho è proprio veramente un sovrappiù quindi l'orologio al quarzo va benissimo non mi piacciono gli orologi al quarzo quando iniziano a costare tanto ok faccio un esempio o quando esiste il suo corrispettivo automatico o manuale ecco ad esempio un omega acquaterra al quarzo io non lo comprerei mai non lo comprerei mai perché costa tanto è perché esiste il suo corrispettivo uguale identico ma con l'incalibro automatico quindi non lo compro quello al quarzo da scartare come invece comprerei determinati orologi al quarzo perché sono il Bulova Lunar Pilot mi sembra che in versione meccanica non c'è ha senso di esistere perché è così è quello lì altri orologi che sono al quarzo e non hanno un corrispettivo meccanico esisteranno esistono nella loro particolarità ma è per quello il motivo che andrebbero scelti perché non c'è quella la parte automatica il corrispettivo automatico e si va sul quarzo non mi vengono in mente dei modelli però insomma se costano tanto i quarzi no per il resto hai detto c'è un paio di belli orologi la maggior parte fanno un po' pietà però si può sempre migliorare d'altronde stai iniziando e piano piano migliorerai mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video e il presentatore e vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio